L'ipertensione arteriosa, più che una vera e propria malattia, è uno stato patologico in cui si ha un aumento costante e non occasionale dei valori pressori. Questi valori pressori sono dati dal rapporto tra la quantità di sangue pompata dal cuore e la resistenza che i vasi oppongono a questo sangue. I valori normali di pressione sono su 120-80 della maggior parte della popolazione. Qualsiasi valore diverso da questo è da considerarsi patologico. L'ipertensione viene definita il killer silenzioso per due ordini di motivi fondamentali. Uno per l'elevata diffusione di questo tipo di problema. Il 30% della popolazione mondiale ha affetto di ipertensione, di cui solo la metà è a conoscenza di averla, l'altra metà non sa nemmeno di averla. Per un motivo fondamentale, i sintomi, altra causa del killer silenzioso, sono subdoli. Parecchie persone possono non accorgersi per molti anni di avere l'ipertensione arteriosa. L'ipertensione è di due tipi fondamentali. L'ipertensione essenziale, quello che non ha una causa riconoscibile, e l'ipertensione secondaria, una causa ben individuata. L'ipertensione essenziale si divide in tre stadi. Primo, secondo e terzo stadio, a secondo della gravità della malattia e quindi dei valori pressori. Quando i valori pressori sono superiori a 180 di massima e 110 di minima, si ha il terzo stadio di ipertensione, che è uno stadio gravissimo. I sintomi, abbiamo detto che sono molto subdoli, dei disturbi visivi, la cefalea al mattino, una stanchezza non attribuibile ad altra causa, possono essere dovuti all'ipertensione. Un'altra cosa da tenere molto in considerazione dell'ipertensione essenziale sono i fattori predisponenti, quali sono il sovrappeso, la scarsa attività fisica, una vita particolarmente stressante. E quindi dobbiamo passare al discorso della terapia dell'ipertensione. Nell'ipertensione secondaria, in genere, è dovuta a problemi renali, a problemi delle ghiandole surrenali, ad eccesso di determinati farmaci. Quindi, rimuovendo la causa che l'ha determinata, si risolve totalmente l'ipertensione. Cosa diversa per l'ipertensione essenziale, dove bisogna sicuramente passare alla terapia farmacologica, è imprescindibile questo. Però è importante cambiare totalmente lo stile di vita. In che senso? Aumentare l'attività fisica, cambiare totalmente l'alimentazione, abolire le carni rosse e preferire le carni bianche, possibilmente preferire il pesce alla carne, preferendo il pesce azzurro, usare l'olio extravergine di oliva, i formaggi magri. E poi, molto importante, è ridurre lo stress. È un fattore sicuramente di rischio, ha una componente importante sull'ipertensione arteriosa. Attualmente esistono dei corsi anche di yoga e di meditazione per la cura dell'ipertensione arteriosa. E poi, in ogni caso, la terapia farmacologica è una terapia cronica. Mai sospenderla, mai sospenderla senza consultare il proprio specialista. Grazie.